Centinaia di case vuote che però non vengono date in affitto dai proprietari che preferiscono metterle in vendita, magari aspettando anche anni prima di ricevere la giusta offerta. Il risultato è che a Cesena il mercato degli affitti è praticamente inesistente, con poche case a disposizione che costano molto caro. Una situazione che pone un limite enorme allo sviluppo futuro della città. Uno studente o un lavoratore che guarda con interesse a Cesena si trova ad affrontare subito uno scoglio importante causato dai prezzi quasi insostenibili. Per quanto riguarda gli universitari recentemente si è mosse il loro aiuto Serinar che ha stipulato un accordo con Unibo volto a creare un canale diretto al servizio contratto casa che consiste nel riperimento di alloggi a prezzi calmierati. Sul fronte di famiglie e lavoratori invece il comune si sta muovendo su più fronti. Il primo passa dalla costruzione del quartiere Novello. È in fase di realizzazione che porterà oltre 200 appartamenti nella città che verranno messi a disposizione soprattutto dell'affitto. Passa a incentivi che noi già diamo con la riduzione dell'IMU per chi fa canoni di locazione concordati quindi a prezzi calmierati e passa anche naturalmente dagli interventi che facciamo sul patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica quindi sulle case popolari che stiamo cercando di manutentare per metterle a disposizione evitando che ve ne siano chiuse perché diciamo non adeguata ad ospitare famiglie e passa anche dalla realizzazione di studentati che naturalmente vanno a coprire un fabbisogno abitativo che è quello degli studenti che altrimenti rischia di entrare in competizione con quello delle famiglie dei lavoratori. I lavori al quartiere Novello sono già iniziati la costruzione dei primi 100 alloggi sarà terminata nei primi mesi del 2023.